In Toscana i medici e pediatri di famiglia potranno prescrivere ai loro pazienti test serologici per rilevare un eventuale contagio da covid e se l'esito sarà positivo il cittadino dovrà contattare il numero verde 800 55 6060 per prendere appuntamento e fare il tampone di conferma. È una delle novità dell'ordinanza firmata dal presidente della regione Enrico Rossi per indicare altre otto categorie di persone più esposte al contagio che possono accedere gratuitamente allo screening serologico di massa avviato dalla regione per intercettare il maggior numero possibile di casi positivi. Queste categorie che noi individuiamo sono categorie che noi diciamo possono essere sottoposte a test sereologico su iniziativa anche della pubblica amministrazione e a spese del servizio sanitario regionale perché riteniamo che sono state le categorie più esposte. Le nuove categorie che possono sottoporsi al test gratuito sono i contatti stretti dei positivi, studenti universitari di facoltà sanitaria con accesso agli ospedali e alle strutture socio sanitarie, medici odontoiatri e infermieri libero professionisti, tabaccai, magistrati e personale amministrativo della giustizia a contatto col pubblico, operatori ospiti delle strutture di accoglienza migranti, insegnanti e dipendenti delle scuole, degli asili nido e dei centri estivi alla ripresa delle attività. Finora in Toscana sono stati effettuati 120.000 test sereologici gratuiti e ogni 10.000 test effettuati le persone risultate positive sono 300 e per 50 di queste l'infezione è stata confermata anche dal tampone.